La Guardia di Finanza nell'anno della pandemia ha celebrato il 247esimo anniversario della Fondazione del Corpo. Nell'occasione le Fiamme Gialle hanno presentato il bilancio dell'attività nel 2020. Perché al PD lucchese servono alternative a raspini per la scelta del candidato sindaco il PD rischia di infilarsi in un vicolo cieco a causa dell'imposizione di un unico profilo da parte di un'ala del partito. Tutto l'azzurro del Moreno Martini, giornata storica per la città di Lucca, inaugurata la pista del Campo Coni per un investimento di oltre 700 mila euro. Il 7 e 14 luglio manifestazioni a livello giovanile. Addio di passini al filecchio Wim, amaro sfogo del giovane tecnico, ai saluti dopo sette anni e un campionato strepitoso in Serie C. Nei prossimi giorni la squadra entrerà nell'orbita della Lucchezia. E ben trovati a questa edizione del TG Noi. In primo piano l'anniversario delle Fiamme Gialle, il 247esimo anniversario dalla Fondazione del Corpo che ha approfittato dell'occasione per fare un bilancio dell'attività in questo anno di pandemia. Il servizio di Federico Conti. Meno lotta alla contraffazione, all'evasione fiscale e più controlli sull'accesso ai sussidi e agli ammortizzatori sociali. L'anno della pandemia ha rivoluzionato così anche l'azione della Guardia di Finanza. È il quadro che emerge dal bilancio del 2020 del Comando di Lucca sul territorio provinciale, diffuso in occasione delle celebrazioni del 247esimo anniversario della Fondazione delle Fiamme Gialle. Il 2020 e il primo semestre 2021 hanno visto una forte riduzione dei controlli sulle frodi fiscali e sul sommerso, complice il blocco prolungato delle attività. Le risorse sono state in larga parte assorbite dai controlli sulle prestazioni assistenziali, esplose per la crisi socio-economica del Covid. 69 controlli eseguiti nel settore, 33 le posizioni irregolari, per un danno allo Stato di oltre 78 mila euro. Le violazioni riguardano soprattutto l'indebita riscossione del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza. I controlli sono tuttora in corso, invece, sull'accesso ai fondi di garanzia. Nel solo 2020, in provincia di Lucca, i finanziamenti statali sono stati 11 mila, per un totale che sfiora in 900 milioni di euro, con circa 10 mila imprese finanziate, di cui 4.400 ditte individuali. Le posizioni sospette, nascoste in questa infinita platea, vengono scandagliate in questa fase dalle fiamme gialle. Notevole anche il contributo della finanza all'azione di controllo del rispetto delle restrizioni durante i lockdown. Oltre 8 mila le persone controllate, 7.500 le ditte, 11 sanzionate. Fra i casi più eclatanti, la scoperta di un'azienda che produceva mascherine non conformi, destinata alle farmacie della provincia. In tutto, 46 mila mascherine irregolari sono state sequestrate dalla finanza in 15 mesi di pandemia. Ed è il momento di vedere assieme i dati relativi ai nuovi contagi. Oscillano di giorno in giorno i nuovi casi in Toscana, ma restano sostanzialmente numeri bassi. Allora, i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in regione sono 50, mentre il tasso di positività è allo 0,36%. I pazienti ricoverati nei posti letto Covid sono 150, 14 in meno rispetto a ieri, di cui 32 in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 4 decessi, con un'età media di 87,5 anni, nessuno di questi nella nostra provincia di Lucca. Allora, andiamo assieme a vedere anche il dato provinciale. Tre i nuovi casi in provincia, due fanno riferimento all'area della Piana di Lucca, nel dettaglio un caso a Capanuri, l'altro a Lucca, e poi un ulteriore caso in Versilia, precisamente a Camaiore. Non si registra invece alcun nuovo contagio in Valle del Serchio. Passiamo alla pagina della politica con l'editoriale del direttore Giulio del Fiorentino. Francesco Raspini, assessore e delfino del sindaco Tambellini, ha rotto gli indugi piazzando la sua candidatura alle prossime amministrative durante l'assemblea del PD lucchese. La scorsa settimana aveva annunciato di essere disponibile, adesso ha calato un carico che anziché compattare divide, se mai ce ne fosse stato bisogno, il Partito Democratico. Perché esperienza insegna che di certe cose prima se ne parla e poi si esce con decisioni condivise, mentre stavolta la sensazione è che si siano volute stoppare possibili e più che valide alternative. A mal consigliarlo quasi certamente il suo mentore sindaco uscente e i suoi collaboratori, che sembrano non aver chiaro come le quotazioni del primo cittadino siano in deciso ribasso. Per questo un PD che voglia almeno combattere alla pari con il centrodestra non può permettersi di subire decisioni. Un partito che in questo momento ha bisogno di essere lungimirante deve piuttosto guardare in modo propositivo al futuro attraverso nomi e profili diversi in grado di proporre novità nel programma di rilancio della città. La strada scelta da Raspini e Tambellini è invece la stessa già vista alle ultime regionali, quando il sindaco impose la candidatura di Francesca Fazzi mandandola di fatto al massacro e dimostrando di non avere minimamente il polso della situazione dal momento che invece a pochi metri di distanza Valentina ha mercanti le elezioni le ha vinte e come. Ecco perché se vuole provare a vincere le elezioni il centro-sinistra deve cambiare strategia. Due gli aspetti incontrovertibili. Il primo è che quel Tambellini che oggi di primarie non vuol sentir parlare è lo stesso che nel 2007 pretese che l'Unione si affidasse al voto primario come unico, vero e giusto esercizio di democrazia politica. Primarie che poi Tambellini perse schierandosi contro l'ex presidente della provincia Andrea Tagliasacchi, l'ex consigliere provinciale dell'Italia dei Valori Bruno Rossi ed Elisa Del Chierico. L'altro aspetto incontrovertibile è che nonostante Raspini non abbia più la delega ai rifiuti. I lucchesi hanno ben presente quanto combinato dal Comune con la riorganizzazione della raccolta porta a porta e un partito che voglia provare a difendere la Roccaforte ne dovrebbe necessariamente tener conto affidandosi ad una tornata interna per capire che aria tira a lucca. Andiamo adesso a Via Reggio dove si è tenuta la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica durante la quale il prefetto esposito ha confermato l'arrivo di 45 uomini di rinforzo per il periodo estivo e poi una stretta sola movida. Luigi Casentini. Sarà di 45 unità il potenziamento delle forze dell'Ordine per il periodo estivo in Versilia. Questo è il dato saliente scaturito dal Comitato sulla Sicurezza Pubblica che si è tenuto alla GAMC di Via Reggio tra la prefettura, i sindaci di Via Reggio, Forte del Marmica, Maiore e Pietrasanta e i vertici delle forze dell'Ordine. Rinforzi che il prefetto aveva già richiesto da tempo e che rappresentano il contingente maggiore a livello regionale. Tutto questo avverrà poi con un contributo di rinforzi che a partire dal 19 di luglio fino a settembre, spalmati quindi su più periodi, sarà complessivamente di 45 unità. Sono stati accordati dal Ministero dell'Interno in una programmazione nazionale ma che erano stati richiesti già dal mese di aprile dalla prefettura. Ovvio che uno dei temi di maggiore peso della riunione è stato quello riguardante la malamovida, anche alla luce degli ultimi episodi che si sono verificati. Tema che lo stesso prefetto ha affermato di riuscire ad accostare a fatica quello della criminalità ma che effettivamente richiede tutta l'attenzione possibile. Le misure che riguardano la malamovida sono state concordate con i sindaci e sono ovviamente misure di rafforzato controllo e vigilanza con ovviamente delle attività di servizi di vigilanza dinamica dedicata andando a individuare quali sono i luoghi nei quali c'è la movida col forte concorso delle polizie municipali e poi ciascun sindaco naturalmente valuterà perché anche di questo abbiamo parlato, la adozione di provvedimenti straordinari per vietare, per contenere l'abuso di alcolici e quindi in base ai luoghi capire anche se per esempio può essere utile l'adozione di provvedimenti che vietano anche la vendita di bevande alcolici con un alcolici in bottiglie di vetro. Il prefetto Esposito però, al di là della questione relativa agli episodi di stretta attualità, ha sottolineato il netto calo di tutti i reati nella zona della Versilia, elogiando il lavoro compiuto da tutti gli organi di polizia operanti sul territorio. Una giornata storica per lo sport lucchese è stata infatti inaugurata, la pista di atletica leggera al Moreno Martini. Erano le 10.56 di un caldissimo, quasi torrido mercoledì mattina quando il vicepresidente della Virtus, Sergio Martinelli, ha tagliato il nastro a sancire l'inaugurazione della nuova pista delle pedane del rinnovato Moreno Martini, ex campo scuola delle tagliate di Lucca. Una giornata importantissima, potremmo dire storica, resa più vivace dalla presenza di un centinaio di bambini del fertile vivaglio virtussino. Anni di dura battaglia, mesi di alacre lavoro, per un investimento di 740.000 euro, di cui 740.000, della fondazione Cassa Risparmio Lucca e finalmente la struttura si presenta in tutto il suo splendore, con una luce talmente forte che forse non gli rende pieno merito. Mancano i lavori di rifinitura, ma ci sarà tempo, da qui al 7 al 14 luglio, quando si terranno le prime due manifestazioni a carattere giovanile. Anche per il sindaco Tambellini, questo è un giorno speciale. Questo è un giorno molto bello perché la pista era in condizione di non poter andare avanti. Il rifacimento della pista, dell'impianto nella sua completezza, dà anche la possibilità di organizzare qui manifestazioni importanti di livello nazionale e oltre, che oltretutto diventeranno poi di rilevo per la città stessa, perché sappiamo che ogni attrazione significativa per Lucca significa un ritorno in termini di accoglienza, in termini di ambientazione, in termini poi di permanenza, di chi verrà, che è significativa anche dal punto di vista economico. Erano presenti anche il presidente della Fondazione Cassa Risparmio, Marcello Bertocchini, l'assessore allo sport del Comune di Lucca, Stefano Ragghianti, l'assessore regionale Stefano Baccelli, il presidente regionale del CONI, Simone Cardullo, ed altri personaggi della vita civile e politica lucchese. Ed ancora ai vertici della Virtus, trano il presidente Nando Caturelli, tenuto lontano da altri impegni. Alla fine, sulle gradinate, all'ombra dell'impianto, il sindaco Tambellini ha ribadito ruolo chiave dello sport nella vita sociale delle nuove generazioni. Ma la grande festa per il nuovo Moreno Martini si terrà a fine settembre, con la certezza adesso di poter organizzare anche grandi eventi. E si è tenuta l'assemblea annuale di Confartigianato e Imprese Lucca. L'occasione è stata, è stata l'occasione per fotografare lo stato di crisi delle aziende in seguito alla pandemia, ma anche per tracciare alcune linee di indirizzo per rilanciare il settore, il servizio. Il 2020 è stato un anno tragico sia per i danni a livello sanitario che per quelli economici subiti da imprese e cittadini. Nonostante tutto, il comparto artigiano lucchese ha complessivamente tenuto, registrando un calo nel numero delle imprese artigiane, di sole 44 unità, portando così a quota 11.068, le imprese artigiane attive in provincia a fine dicembre 2020. Questi sono solo alcuni dei dati evidenziati nel corso dell'annuale assemblea dei delegati di Confartigianato e Imprese Lucca, che si è tenuta lo scorso martedì presso la sede di Viale Castracani, alla presenza della presidente dell'associazione, Michela Fucile, e del direttore, Roberto Favilla. L'incontro è stato anche l'occasione per provare ad immaginare gli scenari del dopo pandemia, tracciando alcune linee guida per una ripresa economica che rilanci l'Italia e il suo sistema produttivo, rappresentato per il 94% da micro e piccole imprese, con una serie di interventi strutturali. La riduzione della pressione fiscale sui redditi IRPEF e lo snellimento degli adempimenti tributari, ha dichiarato Fucile, la riforma della pubblica amministrazione all'insegna della semplificazione e della gestione manageriale al servizio dei cittadini, oltre a una serie di investimenti nelle infrastrutture locali, nella digitalizzazione e nell'innovazione tecnologica. Il direttore Favilla si è inoltre soffermato sulle linee programmatiche dell'associazione, sempre al fianco delle aziende durante la pandemia e fortemente impegnata per i più giovani. Cercheremo di immaginare quali saranno le nuove professioni, ha promesso Favilla, e creeremo le opportunità di alternanza scuola-lavoro, nella convinzione che, ad oggi, i giovani costituiscono la risorsa più importante alla quale dedicare energie e investimenti, non solo da un punto di vista economico, ma anche culturale e di pensiero. Ci spostiamo adesso in Alta Garfagnana, dove si registra una nascita straordinaria di nuovi faggi. Il servizio è di Casotti e Abramo Rossi. A memoria d'uomo non si ricorda una nascita così numerosa di piccole piantine di faggio? Sono a milioni e hanno ricoperto completamente il manto ai piedi delle faggete. Un'azione vegetativa più evidente sotto l'alto fusto, dove la vegetazione a cose normali sarebbe praticamente assente. Una crescita caratterizzata dal colore verde e che ha riempito ogni spazio. È anche il caso di chiedersi a cosa sia dovuto questo straordinario fenomeno naturale. Si è sviluppato perché l'anno passato, 2020, c'è stata una grande pasciona del faggio. Cos'è la pasciona? È un modo di salvarsi la specie, di cercare di fruttificare tantissimo, fa tanti semi, perché si riesca a sopravvivere. Questo, come vedete, quest'anno c'è tantissime piantine nate e uno si domanda e dice ma perché così tante questa volta? Perché l'altro anno ha nevicato tantissimo, ha iniziato presto d'inverno e facendone anche tantissima ha perturato fino a primavera. Quindi i roditori, gli uccelli, tutti questi che si givavano anche di questi semi non hanno potuto givarsi, quindi è rimasto di tutti i semi sotto la neve e ecco che a primavera è nato tutto questo ben di Dio. Dobbiamo però aggiungere che purtroppo quasi tutte queste piantine scompariranno. In parte saranno nutrimento per caprioli, cervi e mufloni. Le altre, almeno quelle sotto l'alto fusto, solo in poche avranno le condizioni giuste per sopravvivere. Rimane tuttavia il fatto che possiamo osservare questo bellissimo regalo di tarda primavera, quasi estate, che ci ha fatto la natura. Per chi volesse vedere di persona questo spettacolo, le bellissime immagini che vi abbiamo proposto sono state girate lungo la strada per Campaiana, all'interno della riserva naturale dell'Orecchiella. È stato proclamato uno sciopero dalle 8 alle 20 del prossimo mercoledì 30 giugno. È stato indetto dall'Associazione Sindacale Fisi ed è indirizzato a tutti i dipendenti dell'azienda ASL Toscana Nord-Ovest, comparto e dirigenza, tutti i profili. L'azienda annuncia possibili disagi nell'erogazione dei servizi sanitari e amministrativi, sia a livello territoriale che ospedaliero. Come previsto però dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore della sanità. La prossima domenica 27 giugno alle ore 18 e 30 nella Cattedrale di San Martino a Via Reggio sarà ordinato un nuovo presbitero per la Chiesa di Lucca. Si tratta di Samuele del Dotto, lo vediamo al centro di questa bella foto. È una classe 1996, giovanissimo, ed è originario della parrocchia di Santa Rita a Via Reggio. Parliamo adesso di turismo e di rilancio del comparto turistico. In questo proposito il Comune di Lucca ha deciso di sospendere per i prossimi sei mesi l'imposta di soggiorno. L'imposta di soggiorno sarà sospesa nel Comune di Lucca fino alla fine dell'anno. La proposta della Giunta approderà venerdì 25 giugno in commissione bilancio e successivamente sarà portata in Consiglio Comunale per la sua approvazione. La prima sospensione dell'imposta che riguarda le strutture ricettive del territorio comunale risale al mese di marzo dello scorso anno ed era stata assunta dall'amministrazione perché l'emergenza sanitaria aveva di fatto bloccato gli spostamenti e dunque i viaggi anche a scopo turistico. Una prima proroga decisa a fine 2020 aveva posticipato la sospensione al 31 marzo di quest'anno e successivamente con un secondo rinvio si è arrivati fino alla fine di questo mese. Abbiamo ritenuto opportuno sostenere la graduale ripresa del settore turistico spiega l'amministrazione e di tutto l'indotto economico ad esso legato. Questa misura comporterà una riduzione delle entrate nei prossimi sei mesi ma è sostenibile nel quadro delle azioni volte al mantenimento degli equilibri finanziari dell'ente. Il provvedimento, spiega ancora l'assessore al turismo Stefano Ragghianti, va ad affiancare quello che riguarda la sospensione del pagamento del ticket d'ingresso alla città da parte dei bus turistici, prorogata anch'essa fino al 31 dicembre 2021. Con questa notizia chiudiamo la prima parte del nostro telegiornale. Qualche istante di pausa poi la pagina sportiva a cura di Guido Casotti.